Una delle cose che dicono i calvinisti è che le autorità civili devono stare sottomesse, sottoposte alle autorità religiose. Quindi praticamente chi gestisce civilmente una regione, una nazione, una città deve sottoporsi agli anziani, al governo religioso. Però la problematica dove sta qui? Tra il governo civile e il governo religioso. Ci sono delle regole, ad esempio, per quanto riguarda le regole religiose noi abbiamo le sacche scritture, mentre per quanto riguarda quelli del mondo vanno gestiti diversamente, perché per loro che giacciono nel maligno non vale il discorso della parola di Dio che non devono fare determinate cose. Quindi cosa ci porta questo? Ci porta a capire che il governo civile deve essere una cosa separata da quello del governo della Chiesa. Cioè la Chiesa ha una sua propria gestione, deve essere completamente separata dallo Stato, mentre lo Stato, il governo civile di una certa nazione segue determinate altre loro regole, che sono regole sempre che Dio manda per determinate, per avere un certo ordine anche nelle nazioni, altrimenti ci sarebbe disordine, no? L'amministrazione della giustizia, il funzionamento di certi apparati pubblici e altre cose di questo tipo, il pagamento delle tasse, come funziona. Perché un apparato pubblico bisogna che sia sovvenzionato dai cittadini. Però vedete, per la Chiesa come potrebbe governare e dire a tutti i non credenti che non possono bestemmiare, non possono bere alcolici, non possono fare questo, non possono commettere adulterio, li devo punire, li devo mettere in galera, che cosa gli devo fare? Ai non credenti, ai non credenti. Infatti è scritto, vi ricordate il passo che dice che non bisogna separarsi dai non credenti che sono adulteri, fornicatori, ubriaconi, rapaci, perché quelli di fuori li giudica il Dio, quelli di fuori vengono giudicati da Dio, mentre quelli di dentro vengono giudicati, possiamo giudicarli. Quindi se uno si fa chiamare fratello e si conduce male, ecco che noi lo possiamo togliere dal nostro mezzo. Togliere dal nostro mezzo, però, non vuole dire togliergli la vita, ma toglierlo solamente dalla comunione, dal mezzo di noi. Capite? Sì, perché? Cosa è successo? È successo che i calvinisti, vedete, hanno governato, nella loro epoca, hanno governato in Svizzera, hanno governato alcune città svizzere. Però come hanno governato? Hanno governato con il terrore, hanno governato con despotismo, c'è ordinando, signoreggiando, capite? Ordinando e signoreggiando come se tutti dovessero obbedire ai precetti di Dio come deve in realtà obbedire solo la Chiesa. Perché? Perché se uno non è credente, se uno è perduto nei falli e nei peccati, non ha la forza spirituale di obbedire ai comandamenti di Dio. E gli è impossibile, capite? Prima di osservare i comandamenti di Dio deve, per forza di cose, ravvedersi, credere nell'Evangelo e in lui entra lo Spirito Santo che lo sostiene, lo aiuta per osservare i comandamenti di Dio. Un non credente non ha la forza, giacendo nel maligno, non ha la forza di osservare i comandamenti di Dio. Ecco perché devono quindi stare separati, perché sono due cose diverse, gestire e governare la Chiesa, gestire e governare la nazione civile, dove anche vive la Chiesa, però per gestire praticamente l'ordine in mezzo ai non credenti, cioè dei non credenti che gestiscono i non credenti. Praticamente tutto un ordine. A volte lo fanno giustamente bene, altre volte lo fanno meno bene. Mentre nella Chiesa, la Chiesa che si trova sempre dentro quel regno civile, diciamo governato da persone incredule, deve essere governato quindi e gestito da persone incredule. Si trova in mezzo a queste nazioni, però c'ha un altro suo governo particolare, la Chiesa, che obbedisce agli ordini di Dio. Quando gli ordini, diciamo, del governo civile contrastano, contraddicono quelli del Signore, allora bisogna obbedire al Signore anziché agli uomini, capite? Come autorità è superiore il Dio, però quello di Dio si rivolge in maniera particolare, in maniera soprattutto sui credenti e non sui non credenti. Ed è per questo quindi che il credente non deve neanche pensarci di entrare in politica, di cambiare le cose in politica, perché dopo si trova a dover combattere con le cose di questo mondo e si contamina. E se si contamina comincia lui a partecipare a scrivere leggi a favore dell'omosessualità, leggi a favore del divorzio, dell'aborto, dell'eutanasia e di tante altre cose malvagie che purtroppo questo mondo di tenebre partorisce e porta avanti. Cosa che la Chiesa è chiamata a condannare. Sono cose che la Chiesa è chiamata a condannare, capite? Noi piuttosto dobbiamo parlare e condannare queste cose. Ad esempio in certe nazioni talvolta si trovano, in certe nazioni si trovano anche a dover decidere i magistrati se mettere a morte qualcuno oppure no, capite? Quindi immaginatevi voi se questi magistrati erano sottoposti, devono chiedere autorizzazione all'organo religioso se possono mettere a morte qualcuno oppure no. Cioè dove andiamo a finire oggi? Però badate bene che questo avveniva ai tempi del calvinismo, della nascita del calvinismo con Giovanni Calvino. Cosa succedeva? che questa, vedete, è un altro lievito malvagio calvinista, che il calvinismo accettava, ammetteva la possibilità di mettere a morte gli erettici, i ribelli, cioè quelli che si opponevano e non si convertivano come piaceva loro, capite? Li mettevano a morte. E come li mettevano a morte? Li mettevano a morte come li mettevano a morte, forse anche peggio, quelli dell'inquisizione romana. Quindi noi oggi siamo stati bombardati da scritti, da libri protestanti dove si metteva in evidenza che l'inquisizione romana ha messo a morte tantissimi credenti, magari i nostri fratelli, va bene. Sono cose orribili che noi condanniamo, che non ci piacciono assolutamente, noi le condanniamo. Ma noi dobbiamo condannare anche le morti che hanno fatto i protestanti, i morti che hanno fatto i calvinisti a Ginevra, che hanno fatto dove governavano questi calvinisti, chi ha fatto Calvino, capite? Anche quelli vanno condannati, perché il credente non ha assolutamente il diritto di mettere a morte nessuno, anzi gli è vietato. Cosa hanno fatto quindi questi calvinisti? Abbiamo citato prima che in Prima Corinzi è scritto di togliere il malvagio di mezzo a noi stessi, va bene? Ma questo togliere il malvagio dal mezzo di noi, come è scritto in Prima Corinzi 5, al versetto 12, dopo aver fatto un elenco di persone che i credenti non devono averci nulla a che fare se loro si fanno chiamare fratelli, se infatti è scritto leggiamo dal 5, 9 di Prima Corinzi, vi ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori, non del tutto però coi fornicatori di questo mondo o con gli avari e i rapaci o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo, ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore o un avaro o un idolatra o un oltraggiatore o un ubriacone o un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare. Poiché ho io forse da giudicare quei di fuori? Non giudicate voi quelli di dentro? Quelli di fuori li giudica il Dio, vedete? Questa deve essere una regola che ci deve accompagnare sempre tutta la nostra vita spirituale qui sulla terra. Quelli di fuori li giudica il Dio, capite? E quelli di dentro che noi possiamo giudicare. Aspettate però, apro una parentesi, non è che noi sbagliamo a dire a un fornicatore o un adultero che se non si ravvede da quel peccato il Dio lo punisce. Si può dire anche ai non credenti. Però non può terminare ad esempio la comunione, scusate è una parola troppo forte, comunione con le tenebre, non ne abbiamo, di avere magari rapporti con quelli del mondo perché sono adulteri, perché sono fornicatori, perché sono ubriaconi. Non è questo che la parola ci comanda. La parola ci comanda che non dobbiamo avere rapporti con quelli che fanno queste cose, ma che si fanno chiamare fratelli, magari frequentano la nostra comunità, è in mezzo a noi, però è un ubriacone, un rapace, un idolatra, un fornicatore, un adultero, un ubriacone. Ecco, quelli noi li dobbiamo giudicare, è corretto giudicarli e dobbiamo starcene lontani, non dobbiamo avere comunione con loro, ma non possiamo farlo, non ci è chiesto di farlo con quelli invece del mondo, capite? Con quelli del mondo invece noi non li dobbiamo giudicare perché quelli li giudica il Dio, cioè li punirà, non è che non li punirà se non si pentono, se non si ravvedono. Però lo fa il Dio, non lo possiamo fare noi, mentre la disciplina nella Chiesa la dobbiamo applicare noi, se uno si sta comportando male, fino ad arrivare al punto di toglierlo dal mezzo di noi stessi. Però attenzione, questo toglierlo di mezzo a noi stessi non vuol dire che gli dobbiamo tagliare la testa, capite? O impiccarlo o bruciarlo vivo come facevano i calvinisti, cioè vi rendete conto? Facevano queste cose malvagie, applicavano questo di togliere il malvagio da mezzo a noi stessi, magari gli eretici in modo particolare, gli eretici che non si convertivano alle loro dottrine, venivano messi a morte, capite? Venivano messi a morte dai calvinisti, stiamo parlando dei calvinisti, ecco perché bisogna stare attenti e stare lontani da questi calvinisti e bisogna dargli addosso il più possibile a quelli che oggi credono ancora nei punti del calvinismo, a parte che ci sono delle eresie in mezzo ai loro punti, oggi volevo citarne alcuni, non affrontarli in maniera dettagliata, però citarli perché ci sono. E' una delle cose sbagliate che citano e appunto questo, usano il libro della legge ingiustamente perché nel libro della legge, nel libro della legge è scritto al capitolo 13 quello che piace a loro, i versetti che poi ha commentato anche Giovanni Diodati confermando che i falsi profeti, coloro che sono erettici, possono, anzi devono essere messi a morte, devono essere denunciati ai magistrati, dovevano essere denunciati ai magistrati, per poi essere messi a morte senza alcuna misericordia, in maniera spietata, capite? Quindi è terribile questa cosa, infatti in Deuteronomio 13 è scritto che è scritto, lo leggiamo, lo leggiamo un paio di versetti, capitolo 13 Deuteronomio dal versetto 1. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succeda ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima, l'anima vostra. Seguirete l'Eterno, lì Dio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete la Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti. E quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'Apostasia dall'Eterno, dal vostro Dio che vi attratti dal paese d'Egitto e vi arredenti dalla casa di schiavitù per spingerti fuori della via per la quale l'Eterno, il tuo Dio, t'ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te. Vedete il riferimento a Corinzi? Toglierai il male, toglierai il male di mezzo a te. Qui il Dio nella legge ordinava, ma a quelli del popolo, a quelli del popolo di Israele, capite, se c'era qualche falso profeta, se c'era qualcuno che insegnava ad appostatare dall'Eterno, cioè dal cessare di avere fiducia in Dio e passare a servire qualcun altro, a disconoscere che Dio è la via che noi dobbiamo seguire, a disconoscere che quelli che dobbiamo seguire sono i comandamenti di Dio per abbracciarne altri, magari creati dagli uomini di comandi, di ordini. Ecco, quelli predicavano, quindi se facevano così, predicavano l'apostasia dall'Eterno. Ed era una cosa grave. Era una cosa grave che nella legge di Mosè, così come la bestemmia, così come l'adulterio, venivano puniti con la morte di colui che commetteva queste cose, capite? Ma qui stiamo parlando della legge. Non si può applicare questa legge. Per quale motivo non si può applicare questa legge? Perché Gesù Cristo è venuto, Gesù è venuto a compiere, è venuto a compiere, a portare, a compimento la legge, capite? È venuto a portarla a compimento. E tra i discorsi che Gesù ha fatto, ad esempio quando parla della legge antica, Gesù, quando parla della legge antica, fa riferimento anche a queste cose che adesso noi leggiamo e dobbiamo andare al Vangelo di Matteo, parole di Gesù che annullano la possibilità, anche sotto la grazie a come avveniva sotto la legge, che possano essere messi a morte gli eretici, i malvagi, quelli che non possono stare in mezzo alla Chiesa di Dio, i ribelli, capite? Non possono essere messi a morte. Perché? Guardate bene cosa dice Gesù. Capitolo 5 di Matteo, leggiamo dal versetto 21. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto al suo fratello racca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Vedete già qui in questi passaggi c'è scritto che è vero che non si deve uccidere ma non si devono neanche dire determinate parole contro i nostri fratelli. Quindi se non si possono dire determinate parole figuriamoci se noi li possiamo mettere a morte. Ancora più avanti è scritto al versetto 33 quindi sempre in Matteo 5 dove Gesù parla, sta diciamo esponendo alcune cose che prima avvenivano in un certo modo ma adesso sono cambiate. Secondo la legge di Cristo sono cambiate. Nella legge di Mosè erano in un modo come veniva insegnata agli antichi ma dalla venuta di Gesù Cristo certe cose sono cambiate. Ed è cambiato proprio questo. Anche questo è cambiato. Cioè nel commettere determinate cose chi sbaglia non può essere assolutamente messo a morte. Ci penserà il Signore. E qui infatti al versetto 33 leggiamo cosa dice in Matteo 5 33. Avete udito pure che fu detto agli antichi non ispergiurare. No scusate al 38 non 33 ma al 38 versetto 38. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente ma io vi dico non contrastate al malvagio. Anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porgigli anche l'altra. E da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuole costringere a far secco umilio fane con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un imprestito non voltare le spalle. Quindi vedete se già qui ci dice la parola che non si può assolutamente non si può assolutamente fare del male a coloro che ci fanno del male. Quindi non ti puoi neanche difendere. Non ti puoi difendere facendogli del male perché ci è comandato. Tanto più noi non tanto più non possiamo assolutamente togliere neppure un capello agli uomini a tutti gli uomini capite a tutti e neppure a quelli che sono eretici a quelli che si fanno chiamare fratelli che noi dobbiamo toglierli è vero dalla comunione della comunità la comunione fraterna dal mezzo di noi in questo senso ma non è che li dobbiamo togliere dalla faccia della terra. Questo assolutamente non è possibile. Noi dobbiamo amare i nostri nemici pregare per quelli che ci perseguitano e questo lo dice più avanti in un altro punto al 43 continuando sempre in Matteo 5 al versetto 43 dice voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figlioli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti se infatti amate quelli che vi amano che premio ne avete non fanno anche i pubblicani lo stesso e se fate accoglienze soltanto i vostri fratelli che fate di singolare non fanno anche i pagani altrettanto voi dunque siate perfetti come perfetto il padre vostro celeste vedete quindi qui dobbiamo amare i nostri nemici ma un eretico che cerca di portarci via da una che cerca che ci vuole far appostatare è un amico o un nemico è sicuramente un nostro nemico un nemico dell'anima nostra capite e cosa dobbiamo fare dobbiamo metterlo a morte lo dobbiamo bruciare vivo come facevano i cal come ha fatto calvino con servetto assolutamente no noi gli erettici i cristiani i quelli che si dichiarano cristiani non devono fare del male fisico a nessuno capite neanche agli eretici la disciplina che possono applicare è quella di è quella di togliergli dal loro mezzo chi ne ha l'autorità può anche mettere quella persona nelle man di satana ma i credenti non torcono non tol non torcono neanche un capello niente nei confronti né frustate né niente né colpi di canna né nessun tipo di fustigazione fisica è prevista nel cristianesimo capite però queste cose queste cose queste cose malvagie c'erano nel calvinismo quindi oggi se ci sono taluni che accettano il che dico si dichiarano di essere calvinisti stati attenti perché se dicono che credono alcune cose del calvinismo vediamo che cosa sono ma se loro dico accettano in toto tutto il calvinismo allora lì facciamo attenzione perché vedete ci sono tutte queste cose tutte queste cose che sono malvagie e non sono malvagie di poco conto sono cose molto malvagie capite cioè si tratta di produrre provocare la morte delle persone che non la pensano come noi alla fine perché calvino chi è che perseguitava perseguitava quelli che non la pensavano come lui capite lui poteva dichiarava qualcun eretico e dopo lo incarceravano e lo sottoponevano al giudizio dei magistrati e dopo poteva rischiare rischiava la morte di essere messo a morte cosa che oggi cosa che oggi noi dobbiamo amare i nostri nemici porgere l'altra guancia dobbiamo pregare per quelli che ci perseguitano addirittura e quindi assolutamente al credente non è permesso in alcun modo di fare del male a chi non la pensa come noi a chi per noi è un eretico a chi non si interessa magari di religione capite a chi è ribelle a chi adultero a chi è fornicatore non possiamo metterli e metterli a morte come invece facevano i calvinisti ma non dobbiamo neanche desiderarlo non dobbiamo neanche sentirlo nel nostro profondo del cuore in profondità del nostro cuore non dobbiamo neanche sentire questo bisogno la necessità che le persone malvagie muoiono perché quello che noi dobbiamo sentire nel nostro cuore il desiderio che noi dobbiamo avere il nostro cuore deve essere soltanto quello che tutti i peccatori si convertano a dio che lasciano il loro peccato e si convertano all'idio vivente vero capite che si ravvedano e credano nell'evangelo questo è il desiderio che noi dobbiamo avere verso tutti amici nemici anche a chi insegna eresia il nostro desiderio è che si convertano dalle loro vie malvagie dalle loro false dottrine e abbraccino la verità di dio quante volte è successo che per un tempo uno era erettico no ci sono gli unitariani certi unitariani che prima erano unitariani dopo a un certo punto si sono ravveduti e hanno creduto nella verità quindi li abbiamo conquistati alla verità invece cosa ha fatto appena li ha individuato uno calvino l'ha messa a morte a serveto l'ha messa a morte e se noi avessimo fatto se si poteva fare oggi no se i calvinisti avressero potuto farlo oggi come fu fatto allora avrebbero ucciso tutti gli unitariani che si sarebbero dichiarati diciamo anti trinitariani capite invece siccome la nostra unica vittoria è quella di che le persone si ravvedano e credono nella verità dobbiamo pazientare dobbiamo aspettare tanto è dio che farà la sua vendetta verso quelli che si dichiarano fratelli ma credono in certe eresie poi ci penserà il signore noi possiamo toglierli dal nostro mezzo della comunione fraterna ma non dobbiamo togliere la vita anzi dobbiamo come la parola ci ha esortato abbiamo letto che dobbiamo pregare per i nostri nemici capite pregare per gli erettici pregare per quelli che ci hanno fatto del male pregare per tutti quelli che stanno andando in perdizione affinché si ravvedano questo è l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre non quello di eliminare fisicamente tutti quelli che non la pensano come noi capite perché questo pro può produrre due effetti primo o ammazziamo un sacco di gente che rimaniamo in pochissimi o altrimenti tutti visti visto il pericolo dicono di credere come crediamo noi ma c'è come credono i calvinisti ma in realtà non ci credono quindi dicono una cosa e invece ne fanno un'altra capite e quindi non deve essere così non deve andare in questa maniera cioè io sto facendo riflettere su queste cose che riguardano i calvinisti perché sono in mezzo a noi badate bene si nascondono in mezzo a noi loro si vantano di credere in calvino grande uomo di dio sì ma che cosa un assassino era un assassino di cristo in lui non c'era nulla va bene ha detto qualche insegnamento giusto l'ha fatto non è che però questo non vuol dire che dobbiamo accettare i suoi assassini capite e la storia cosa fa copre i suoi omicidi e portare avanti solo le cose che piacciono capite cosa fanno ecco noi no noi non siamo di questo genere di persone che coprono il male e parlano solo del bene delle persone perché perché facciamo così perché la parola ad esempio di davide dice che era un uomo secondo il cuore di dio certo tranne che nella faccenda che riguardava batte scebba lì davide è stato un adultero e da è un assassino anche perché ha messo a morte il il marito di batte scebba capite quindi capite bene capite bene che la parola parola parla delle cose positive ma anche delle cose negative dei servitori di dio di pietro c'è scritto che fece quelle belle testimonianze il suo ardore il suo zelo era forte e poi vediamo che lo ha rinnegato tre volte di salomone vediamo che dio gli apparve gli disse chiedimi quello che vuoi salomone gli chiese tanta sapienza per poter governare il popolo e dio gliela diede la sapienza tanta sapienza intelligenza spirituale e poi cos'è successo alla fine le sue molte mogli gli sviarono il cuore si mise a offrire sacrifici e costruire altarini altari ad altri dei che non erano l'eterno si sviò di cuore e la scrittura benché abbiamo dei libri di salomone anche se si è sviato cioè abbiamo dei libri che noi li prendiamo per buoni ispirati da dio ma non possiamo dimenticare però che la parola di dio ci dice anche lui si è sviato le sue molte mogli lo hanno sviato capite dobbiamo considerare sempre la somma delle cose non solo la somma della parola ma la somma di tutto quello che riguarda una persona no anche in questa vita se una persona dice dieci cose giuste va bene ma se ne dice una sbagliata non è che le dieci cose giuste devono servire per coprire quella cosa sbagliata le dieci giuste rimangono vere e giuste quella sbagliata rimane sbagliata e noi le dobbiamo chiamare in questa maniera le dobbiamo distinguere capite perché così deve essere la parola lo ha fatto e lo dobbiamo fare anche noi se calvino ha detto determinate cose giuste gloria a dio ma noi siamo contenti ma se ne ha dette e fatte altre che sono molto sbagliate tra cui omicidi di persone noi non le possiamo accettare le dobbiamo assolutamente rifiutare capite rifiutare ma non sono le uniche cose questa era tra le più orribili quella di mettere a morte delle persone che non la pensano come loro ma ce ne sono anche altre anche altre il lievito dei calvinisti ce n'è oggi ne voglio prendere alcuni un altro un'altra 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 esia che che calvinisti la considerano un punto fondamentale delle loro della della dottrina calvinista che è stata la dottrina calvinista è stata diciamo insegnata da calvino ecco perché e poi viene è stata adottata da dai riformati dai presbiteriani da altri da altri altri gruppi religiosi nei secoli che si sono susseguiti a calvino hanno abbracciato quel tipo di dottrina di calvino i punti calvinisti li chiamano tra questi punti c'è quello chiamato della redenzione limitata cioè loro dicono calvino diceva che gesù è morto solo per gli eletti quindi è la morte di cristo è strettamente limitata per i peccati di quelli che poi nascono di nuovo e vengono salvati di quelli che sono scritti nel libro della vita praticamente solo per quelli e non anche e non anche per gli altri che invece sono del mondo e non si convertiranno mai vabbè loro asseriscono questo però cosa dice la parola a tal proposito la parola in diversi punti fa capire che gesù cristo è morto per i peccati di tutto il mondo ma questo non vuol dire che seppur noi crediamo e diciamo che gesù è morto per i peccati di tutto il mondo per perché esaminando la somma della parola esaminando la somma della parola noi non giungiamo assolutamente alla conclusione che siccome gesù è morto per i peccati di tutto il mondo tutto il mondo è salvato no perché ci atteniamo alla somma della parola però per quanto riguarda questo passaggio noi dobbiamo dire che gesù è morto per i peccati di tutto il mondo cioè gesù il sangue di gesù è sufficiente sarebbe sufficiente no perché lui essendo morto per tutto il mondo il suo sangue era e potente da poter purificare i peccati di tutto il mondo di tutte le epoche capite è così potente il sangue di gesù però questo non è avvenuto perché il resto della scrittura ci dice ci dice che ci dice che non non è stato e no e dio non lo ha voluto non ha voluto salvare tutti capite ma ha voluto salvare solamente quindi rendere efficace il la liberazione della conseguenza dei peccati mediante la fede nel sacrificio di cristo gesù è avvenuto solamente è stato efficace solamente in quelli che erano scritti nel libro della vita e sono nati di nuovo però vedete come dice giovanni nella sua prima epistola al capitolo 2 al capitolo 2 dal versetto 1 dice figlioletti miei io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate e se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il padre cioè gesù cristo il giusto ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo vedete qui giovanni scrivendo dice una cosa che è giusta di tutte le cose che ha scritto se sono giuste dal punto di vista calvinista dice quindi qui rientra in quello che vuoi che piace ai calvinisti e dice che gesù egli è la propiziazione quel egli è riferito a gesù cristo sta parlando di gesù e dice egli è la propiziazione per i nostri peccati cioè dei peccati nostri di chi scrive e di chi a cui è indirizzata la lettera capite che sono sempre credenti le lettere sono indirizzate ai credenti non è che sono indirizzate non credenti quindi sta parlando qui gesù è la propiziazione cioè quel sacrificio sacrificio che mette riconcilia il dio che mette diciamo pace e riconcilia il peccatore con dio capite gesù è propiziazione vuol dire questo questo che si fa la pace praticamente il peccatore che su cui l'ira di dio gravava mediante la fede nel sacrificio che cristo gesù ha compiuto quel sacrificio essendo un sacrificio propiziatorio cioè che ti rende propizio alla divinità ecco che dio non è più adinato con quella persona capite quindi questo avviene normalmente per i credenti però cosa dice giovanni giovanni continua non si è fermato lì questo discorso è quello che fanno si limitano a questo i calvinisti però c'è giovanni ha continuato a parlare e dice non soltanto per i nostri vedete è così i calvinisti vedete rimangono spiazzati perché perché qui giovanni sta introducendo in maniera forte e molto diciamo evidente che sta uscendo fuori da quello che dicono i calvinisti e sta cercando di spiegare anzi lo dice chiaramente che gesù non è la propiziazione soltanto per i peccati dei santi degli eletti ma bensì dice non soltanto per i nostri vedete ma anche per quelli di tutto il mondo vedete ma anche per quelli di tutto il mondo quindi gesù è la propiziazione è corretto dire che gesù è la propiziazione per i peccati di tutto il mondo quindi la redenzione limitata cioè limitare questa propiziazione solo ai credenti agli eletti a quelli che sono scritti nel libro della vita non è conforme alle scritture semplice ci sono tanti altri passi altri ragionamenti che si possono fare io mi sono limitato a questo perché vi sto facendo un breve escurso su un breve stiamo facendo un breve viaggio in alcune cose che riguardano il lievito malvagio dei 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 calvinisti da cui ci dobbiamo guardare sia dal lievito dei calvinisti e guardiamoci anche dai calvinisti cioè noi li dobbiamo ammonire severamente e dire che veramente si devono ravvedere e accettare quello che sta scritto nella parola di Dio ma andiamo avanti perché ce ne sono anche altri di lieviti malvagi un altro lievito che mi lascia perplesso però c'è anche c'è anche quello ad esempio una cosa che insegnavano i calvinisti che ancora oggi difendono i calvinisti di oggi è la perpetua verginità di Maria eh sì non sono solo i cattolici che credevano che Giuseppe e Maria non hanno mai avuto rapporti rapporti carnali tra marito e moglie perché a credere questo ci sono c'erano e ci sono anche anche i calvinisti magari qualcuno non ci crede più ma giustamente deve farlo notare però cioè noi vogliamo che lo dicano comunque lo dichiarino apertamente quelli che non credono non credono che Maria sia stata sempre vergine come esattamente perché questo lo credono i cattolici romani e ne hanno fatto un culto un ne hanno fatto un servizio a Maria ne hanno fatto un adorazione a Maria basando basandosi appunto su questo sulla sua perpetua verginità cosa che non è conforme alle sacre scritture ora citiamo qualche passaggio ma quello che mi lascia meravigliato su questo è che tutti questi studiosi calvinisti eh siano da calvino eh siano caduti in questo errore cioè non riesco a capacitarmi perché la scrittura anche su questo è abbastanza chiaro anzi chiarissimo ad esempio in Matteo 1 25 stanno scritte queste parole quindi Matteo 1 25 leggiamo da allora il contesto è questo che appare un angelo siccome appare un angelo e a Giuseppe lo sposo di Maria è perché Giuseppe la voleva lasciare in segreto ehm voleva lasciare Maria in segreto perché era incinta ma era incinta dallo Spirito Santo ma si vede che Giuseppe non ci ha creduto e voleva lasciarla occultamente però avendo questi pensieri in cuore il Dio gli ha mandato un angelo a a stornarlo dalla decisione che eh aveva eh pensato in cuor suo prima di prenderla prima di andarsene via e tra le cose che gli dice ci sono queste tra le cose che sono scritte a riguardo di questo al versetto eh cioè glielo di l'angelo gli apparve in sonno e gli fece tutto un discorso che eh che quello che era in Maria era stato generato dallo Spirito Santo che partorirà un figliolo gli sarà posto il nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati poi eh poi dice al versetto 24 1 24 e 25 lo leggiamo e Giuseppe destatosi dal sonno fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché la non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù qui questo versetto è un versetto abbastanza chiaro ci dice che siccome la parola diceva la parola nei profeti diceva che ecco la vergine sarà incinta e partorirà un figliolo cioè era scritto che la vergine doveva rimanere incinta ma la vergine doveva anche partorire capite cioè doveva essere vergine nel rimanere incinta ma doveva essere rimanere vergine anche quando partoriva capite questi due punti sono importanti ecco perché qui dice che Giuseppe non la conobbe nei nove mesi in cui lei era incinta Giuseppe non ebbe rapporti con Maria in quel periodo neanche in quel periodo né prima di rimanere incinta e neanche nel periodo in cui Maria era già incinta questo finché la non ebbe partorito vuol dire questo finché vuol dire fino a quando quindi alla domanda che uno giustamente si deve porre visto che Giuseppe si è sposato con Maria e Maria è venuta a vivere assieme a Giuseppe fino a quando è stato diciamo Giuseppe non ha avuto rapporti con Maria e qui lo dice fino a quando Maria non ha partorito dopo che Maria ha partorito Giuseppe è stato libero di avere rapporti carnali normali che si è stato libero di avere dei rapporti con Maria capite è stata è una cosa normale e qui c'è scritto finché la non ebbe partorito ma abbiamo altre conferme altre conferme che possiamo utilizzare che possiamo andare a leggere nella parola possiamo utilizzare per confutare questi calvinisti ed è proprio che è scritto chiaramente che Maria ha avuto altri figli dopo Gesù ne ha avuto altri capite e qui dobbiamo andare a leggere capitolo capitolo 13 quando Gesù quando Matteo parla del fatto che Gesù è è andata a Nazareth va bene quando Gesù predicò a Nazareth successero queste cose capitolo 13 di Matteo dal versetto 53 or quando Gesù ebbe finite queste parabole partì di là e recattosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga tal che stupivano e dicevano onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti non è questi il figliolo del falegname sua madre non si chiama ella Maria e i suoi fratelli Giacomo Giuseppe Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi donde dunque vengono a lui tutte queste cose e si scandalizzavano di lui ma Gesù disse loro un profeta non è sprezzato che nella sua patria è in casa sua e non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità vedete i nazareni intanto siamo a Nazareth va bene non è che era una grossa città una metropoli dove c'erano milioni e milioni di persone era un villaggio capite era un villaggio Nazareth un piccolo villaggio lì grosso modo magari capitava che si conoscevano tutti intanto non so se si conoscevano tutti questo non possiamo saperlo ma qui dice che a Giuseppe lo conoscevano sapevano che era falegname quindi il padre di Gesù conoscevano Maria conoscevano anche i fratelli di lui se sono fratelli di Gesù vuol dire che hanno una stessa madre no capite sono fratelli sono fratelli di Gesù e sono Giacomo Giuseppe Simone Giuda vedete ci sono anche i nomi ma non solo Gesù aveva anche delle sorelle quindi al plurale quindi le sorelle di Gesù erano almeno due quindi abbiamo che Maria con certezza possiamo dire che aveva avuto almeno cinque figli maschi e almeno due figli femmine quindi minimo minimo contiamo nelle scritture che come minimo e ne avrà avuti di più ma come minimo Maria ha avuto sette figli di cui il primo genito era Gesù è stato Gesù capite primo genito è stato Gesù vedete quindi che le scritture le scritture diciamo annullano annullano completamente quelle falsità anche questa falsità che insegnano i calvinisti purtroppo per loro le cose sono chiare nella nella parola di Dio e noi preferiamo attenerci non a uomini che altri uomini hanno decretato grandi uomini nella storia come Calvino secondo la parola Calvino vedete è un eretico è una persona che insegnava falsità è una persona omicida ecco come definisce Calvino la parola di Dio capite queste cose queste cose sono scritte nella parola che leggevano anche all'epoca anzi Dio Tati che era calvinista le ha tradotte ma la Bibbia in francese l'ha tradotta pure Calvino quindi non è che possiamo dire che Calvino non conoscesse le scritture o ha letto solo in parte le cose no lui ha tradotto la Bibbia in francese Calvino quindi conosceva ogni minimo dettaglio molti più dettagli però vedete come alla fine l'intendere la parola di Dio non dipende dalla cultura che uno ha dagli studi che ha fatto dalle lingue originali e che conosce no l'intendimento fratelli e sorelle nel Signore la sapienza e l'intendimento della parola e della verità provengono da Dio capite solo da Dio non dagli studi che uno fa se certo io esorto sempre e lo faccio lo farò sempre a studiare la parola però esorto anche a pregare affinché Dio ti doni sapienza e intelligenza per intendere la parola secondo la sua volontà cioè non devi arrivare a capire studiando la parola quello che ha capito Calvino assolutamente no se no se arrivi a capire quello che ha compreso falsamente Calvino si arriva dopo ad ammazzare altre persone capite si arriva ad essere spietati e senza misericordia come lo era Calvino e noi non lo dobbiamo essere il Signore ci chiama ad avere pietà e misericordia verso tutti verso tutti poi è il Signore che decide quale erettico far vivere quale far morire o quanto tempo li fa vivere capite quelle il Signore che opererà noi cosa ci dice il Signore come dobbiamo operare con gli eretici i disordinati i malvagi i ribelli dobbiamo toglierli da mezzo a noi non li dobbiamo lasciare dalla nella comunione fraterna capite non non devono rimanere nella nella comunione fraterna però assolutamente non dobbiamo fargli nessun male fisico niente ci penserà il Signore a queste cose un'altra cosa un'altra cosa che insegnano insegnano i che insegnano i calvinisti è il pedo battesimo che ha insegnato Calvino e che purtroppo ci credono e insegnano ancora oggi anche alcuni calvinisti non credo tutti perché è così evidente oggi con tutta con tutti i mezzi di comunicazione che ci sono le confutazioni che sono state fatte contro il battesimo in acqua dei degli infanti cioè di quelli che sono appena nati praticamente contro questo battesimo ci sono tante di quelle confutazioni che oggi credo che che sostenere ancora il pedo battesimo sia sia difficile c'è c'è proprio è una vergogna se uno insiste a difendere questa cosa ma io mi limiterò a dire a dire questo non per quanto riguarda il battesimo in acqua il battesimo in acqua c'è sbagliare tra il battezzare c'è come come riflett come ho riflettuto se uno si sbaglia nel capire cosa è il battesimo potrebbe anche sbagliarsi nel capire cos'è la salvezza cos'è la predicazione dell'Evangelo e cosa vuol dire nascere di nuovo capite perché tutte queste dottrine sono sono collegate l'una all'altra cioè la dottrina che è scritta nella parola cosa dice dice che bisogna vedete leggiamola in Marco in Marco leggiamo Marco l'Evangelo di Marco capitolo 16 versetto 16 chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato quindi la parola ci dice di andare per tutto il mondo ad annunziare l'Evangelo ecco il versetto prima nel versetto 15 lo rileggo leggo di nuovo il 15 e il 16 e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato vedete qui c'è l'esortazione di Gesù ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo ad annunziare l'Evangelo ad ogni creatura annunziare l'Evangelo poi cosa dice chi avrà creduto sarà salvato chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato notate bene quindi che c'è la prima fase che bisogna tenere conto è quello che i credenti devono andare ad annunziare l'Evangelo ma ditemi un po' ma come si fa quindi ad annunziare l'Evangelo a un bambino appena nato capite? qui non stiamo parlando di battezzare bambini di 8, 9, 10, 11 anni che possono già magari aver creduto capite? possono ci può essere questa possibilità qui stiamo parlando proprio della impossibilità assoluta di battezzare in acqua i bambini appena nati perché gli devi annunziare l'Evangelo e loro devono manifestare testimoniare di aver creduto nell'Evangelo per poterli battezzare in acqua capite? infatti voi tutti come anch'io prima di essere stati battezzati c'è stata fatta la domanda no? credi tu che Gesù Cristo è il figliolo di Dio che è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato? sì credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio che poi è la domanda la questione simile vedete che ha posto ha posto Filippo a Leonuco che gli disse gli disse Filippo a Leonuco gli disse perché Leonuco che andava per la strada andava viaggiava sulla strada e Filippo lo ha evangelizzato bene poi Leonuco dice l'Etiopo dice a Filippo che cosa impedisce che io sia battezzato che cosa impedisce e guardate cosa dice Filippo Filippo dice se tu credi con tutto il cuore è possibile quindi quando è possibile essere battezzato in acqua? quando uno crede con tutto il cuore ma ora ditemi un po' come si fa come si fa a un bambino a un bambino appena nato che ha un paio di giorni un paio di settimane anche un mese due mesi tre mesi a dire che lui crede che Gesù Cristo è il figliolo di Dio non si può fare non può essere una tale cosa capite? non può essere quindi cosa vuol dire questo? vuol dire che i bambini appena nati che ancora non discernono il bene dal male che non discernono l'Evangelo che non hanno quindi creduto nell'Evangelo come scritto non possono essere battezzati in acqua perché il battesimo in acqua cos'è? è seppellimento dell'uomo vecchio che è morto quando sei nato di nuovo e quando si nasce di nuovo quando si crede nell'Evangelo capite? quindi si crede nell'Evangelo l'uomo vecchio muore e poi nel battesimo nella pratica battesimale si viene l'uomo vecchio l'uomo che è morto vecchio viene seppellito capite? è una simbologia che viene seppellito l'uomo vecchio e quando esce dall'acqua esce come un uomo nuovo l'uomo vecchio rimane seppellito capite? ma questa simbologia se non c'è stata la morte dell'uomo vecchio se non c'è stato uno che ha creduto questa simbologia non serve non serve neanche in quelli che sono adulti e si sono fatti battezzare in acqua che non erano già credenti è capitato ci è capitato anche a noi di avere qualcuno che non era credente si è fatto battezzare in acqua poi naturalmente quando ha creduto si è dovuto far ribattezzare perché la prima volta non essendo nato di nuovo non c'era niente da seppellire non c'era un uomo vecchio che è morto ed è stato seppellito non era una testimonianza di una nuova nascita quel battesimo in acqua capite? non ha potuto testimoniare di aver abbandonato la sua vecchia vita con tutte le vecchie cose perché? perché non l'ha potuto fare perché non era nato di nuovo quindi quella testimonianza non era una vera testimonianza che ha dato ma una falsa testimonianza quindi quando poi una persona rinasce cioè nasce di nuovo deve essere ribattezzato in acqua anche se è stato battezzato prima perché il battesimo in acqua deve essere fatto solamente dopo che una persona ha creduto non prima assolutamente non può essere fatto prima ma solo dopo vedete quindi queste sono ma ce ne sono anche altre altre cose che non credono i calvinisti altre cose che non accettano non accettava Calvino e i calvinisti e qui siamo parliamo della potenza di Dio parliamo dei cessazionisti i calvinisti sono anche cessazionisti non basta un male ne hanno anche un altro vedete ci hanno due mali non uno solo sono calvinisti con le dottrine false dei calvinisti e sono anche cessazionisti perché non accettano la potenza di Dio quindi non credono ancora che ancora oggi il Dio battezza con lo Spirito Santo con la manifestazione del parlare in altre lingue non credono che Dio distribuisca che lo Spirito Santo distribuisca i doni spirituali la potenza di operare miracoli la parola di sapienza la parola di conoscenza non credono che Dio doni oggi che doni anche sogni e visioni che rapisca dal corpo capite non ci credono e non credono neanche che Dio distribuisca i doni di ministerio i cinque doni di ministerio l'apostolo l'evangelista il profeta il pastore il dottore non ci credono capite non ci credono quindi anche questo vedete è un lievito malvagio è il lievito dei cessazionisti di quelli che dicono che Dio certe cose oggi non le compie più ma ha cessato di compierle ma la scrittura non insegna questo la scrittura insegna che ancora oggi si viene battezzati con lo spirito santo con la manifestazione delle lingue capite infatti Pietro dice capitolo 2 39 parlando della promessa del battesimo con lo spirito santo Pietro in atti 2 39 dice queste parole poiché per voi è la promessa sta parlando della promessa del battesimo con lo spirito santo con il parlare in altre lingue dice per voi è la promessa voi quelli che stavano ascoltando in quel momento i giudei che ascoltavano in quel momento poi dice per i vostri figlioli quindi per i discendenti di quei giudei era la promessa poi dice ancora è per tutti quelli che sono lontani quelli che sono lontani la scrittura riferisce questa frase ai gentili quindi la promessa del battesimo con lo spirito santo riguardava anche i gentili non solo i giudei ma anche i gentili poi dice ancora Pietro per quanti il signore il dio nostro ne chiamerà vedete al futuro c'è un termine qui che viene indicato no il termine che viene indicato dalla parola è quando la perfezione sarà venuta ma la perfezione verrà quando noi saremo risuscitati dai morti ed avremo un corpo glorioso e perfetto capite che non peccherà più che non morirà più che non si ammalerà più ecco quando verrà la perfezione cioè al ritorno al ritorno di Gesù Cristo ecco quando ecco quando i doni potenti di Dio cesseranno cesseranno quando quando la perfezione sarà venuta ma poi ci sono i doni spirituali che Dio che lo Spirito Santo distribuisce come Egli vuole capite e poi ci sono i doni di ministerio poi ci sono i sogni le visioni tutte cose che i calvinisti i cessazionisti i riformati tutti quelli che comunque sono nella stessa cerchia dei calvinisti non accettano rifiutano rifiutano la potenza di Dio rifiutano vedete quante parti della scrittura io mi sono limitato a citare il minimo solo per farvi riflettere su queste cose vedete quante parti della scrittura hanno compreso male o rigettato o annullato come poi facevano i farisei vedete quindi Calvino era un eretico Calvino era un malvagio insegnava lievito malvagio e metteva a morte quelli che lui riteneva erettici capite lui erettico secondo la parola abbiamo dimostrato oggi citando alcuni passaggi biblici lui eretico si è permesso di mettere a morte gli altri eretici capite solo perché lui governava in quella città governava in quel posto quindi fratelli e sorelle nel Signore vi esorto vivamente a stare attenti ai calvinisti anche ai cessazionisti ma oggi abbiamo parlato in modo particolare dei calvinisti quindi quando sentite che certe persone si attengano al calvinismo ricordatevi di alcune cose che sono state dette oggi perché sono fuori dottrina sono fuori dalla sana dottrina i calvinisti capite il fatto che abbiano parlato bene sulla doppia predestinazione il fatto che Calvino abbia parlato bene sulla doppia predestinazione non vuol dire non vuol dire che non vuol dire che abbiano ragione su tutto ad esempio un'altra falsa dottrina che loro insegnano qual è mi è venuta in mente adesso è che loro non credono che un eletto possa perdere la salvezza quando invece noi sappiamo che i credenti possono commettere il peccato che mena a morte e per quello non c'è più niente da fare chi lo può commettere il peccato che mena a morte che poi è l'apostasia no? il rinnegare Cristo se uno rinnega Cristo se uno non può essere più perdonato vedete quindi va in perdizione e questo peccato lo può commettere solamente chi a Gesù Cristo lo ha conosciuto chi a Gesù Cristo ha creduto chi ha creduto in Gesù Cristo ed è stato salvato ed è nato di nuovo capite? non può commetterlo uno che Gesù non l'ha mai conosciuto cioè conosciuto si intende proprio che è stato salvato cioè tu puoi abbandonare qualcuno puoi abbandonare una strada se eri in quella strada tu puoi abbandonare Gesù se l'hai conosciuto Gesù se eri con Gesù se eri dentro Gesù e Gesù era dentro di te allora lo puoi rinnegare e abbandonare ma se tu sei stato sempre lontano da Gesù come fai a rinnegarlo? non l'hai mai conosciuto non sei mai stato con lui vicino a lui capite? quindi quindi vedete come anche il credente un vero credente può perdere la salvezza ed è per questo che nella scrittura vengono esortati i santi a perseverare nella fede nelle buone opere nella santificazione sino alla fine per non essere appunto cancellati dal libro della vita sì perché la scrittura vedete chi è che viene salvato? viene salvato colui che è scritto nel libro della vita vengono salvati tutti quelli che sono scritti nel libro della vita ma la parola di Dio ci dice anche questo che dal libro della vita si può essere cancellati quindi si è stati scritti di conseguenza avviene qualche cosa che è cioè si viene chiamati e si viene salvati per questo si è scritti nel libro della vita però da questo libro si può essere anche cancellati come dice in Apocalisse al capitolo 5 al capitolo 3 versetto 5 scusate 3-5 di Apocalisse sta scritto così chi vince sarà così vestito di vesti bianche ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del padre del padre mio e nel cospetto dei suoi angeli vedete non a chi vince però chi è chi sono quelli che vincono sono quelli che arrivano alla fine perseverando nella fede perseverando nelle buone opere perseverando nella santificazione quelli sono quelli che vincono che rimangono fermi nella fede capite e questi non vengono cancellati però quelli che perdono cosa succede che quelli che non perseverano nella fede nella fede in dio quelli vengono cancellati dal libro della vita vedete e quindi non entrano nel regno dei cieli nel regno celeste erano anche su questo vedete quindi sbagliano anche su questo i calvinisti anche su questo insegnano delle cose false delle cose che fanno male alla chiesa se tu dici a un credente che non può più perdere la salvezza lui smette di combattere contro il peccato capite perché la vita del credente è fatta di continuo combattimento contro il peccato e sa che non si può non può fermarsi di combattere contro il peccato non può smettere di combattere contro il peccato perché se perde contro il peccato non vince e quindi il suo nome sarà cancellato dal libro della vita e quindi costoro che vengono illusi quelli che accettano questa dottrina calvinista che praticamente gli eletti non possono perdere la salvezza cioè quelli che sono scritti nel libro della vita non possono essere cancellati secondo quello che dicono loro ma noi nella scrittura leggiamo tutt'altro noi leggiamo che dal libro della vita si può essere cancellati quindi non ci dobbiamo fermare di combattere contro il peccato tutta la nostra vita la dobbiamo vivere perseverando nella preghiera per opporci essendo in comunione con Dio grazie alla preghiera per opporci al peccato per non vivere e non farci dominare dal peccato capite quindi dobbiamo dobbiamo veramente continuare ad avere fede in Dio e dobbiamo incontrando questi calvinisti ammonirli severamente di abbandonare le cose false non quelle vere che insegnava Calvino ma quelle false sì capite le cose false bisogna che siano abbandonate e questo era fratelli e sorelle nel Signore il messaggio che mi sono sentito in cuore di portarvi sul lievito malvagio dei calvinisti purtroppo da cui bisogna guardarsi sia dal lievito che dai calvinisti stessi esseri non si ravedono quindi tenetevi guardatevi guardatevi dai calvinisti perché purtroppo non sono guidati dallo spirito di verità a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén